ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono andrea come sempre questo è curiosando lanzarote questo video ragazzi l'ho fatto ieri sera per voi siamo andati a camminare io anita siamo andati da casa fino a playa cica e poi io ho fatto questo bellissimo video al tramonto visto che erano già parecchi mesi che non lo facevamo ho deciso di regalarvi questo splendido panorama di lanzarote all'ora del tramonto iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale è 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete ragazzi qui alle nostre spalle c'è già tutto pronto per la trentesima edizione dell'Ironman di Lanzarote. E' già stato messo il tendone. Credo che su questo palco qui alle mie spalle faranno la premiazione. E sicuramente una cosa che manca ancora è togliere l'esdraio da qui perché credo, non ho ancora guardato il programma completo dell'Ironman, ma credo che come l'anno scorso, qui sotto faranno la partenza. Quindi direi comunque che ci siamo, hanno già transennato tutta quanta la zona e noi siamo in attesa che arrivino tanti tanti partecipanti quest'anno. Perché l'anno scorso, se vi ricordate, con il fatto del covid era stata una competizione con molti pochi partecipanti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 E invece amici qui sotto, prossima apertura, un bellissimo ristorante con vista mare. Sì 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 Questo invece ragazzi credo sia la zona di cambio Quando dovranno salire in bicicletta Credo che purtroppo l'anno scorso Hanno dovuto fare delle modifiche Per quanto riguarda tutte le normative covid che c'erano in quel momento Quindi sicuramente quest'anno le cose saranno un po' diverse dall'anno scorso Grazie 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 a tutti. 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 E che dire, se vi è piaciuto, lasciateci un like qui sotto al video. E se siete rimasti contenti di questo regalo, potete lasciarci un cuoricino. Detto questo, ragazzi, noi vi auguriamo una buona serata. Detto questo ragazzi, noi vi auguriamo una buona serata, un buon inizio di settimana e vi diamo appuntamento come sempre a domani per un nuovo video e sempre qui su... scusando... Lanzarote. E mi raccomando, questa settimana ci sarà una sorpresa. Ricordatevi, ciao!